Le piogge di ieri hanno sicuramente fatto aumentare il livello della diga di Occhito, il più grande bacino idrico della Puglia, ma anche degli altri invasi minori, Capaccio sul Celone, San Pietro sullo Sento e la Marana Capacciotti, tutti invasi gestiti dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata. Per tutta la giornata di ieri è caduta molta pioggia, soprattutto sui Monti Dauni, contribuendo a riempire ulteriormente le righe. L'ultimo aggiornamento del Consorzio di Bonifica, relativo a Occhito, è abbastanza incoraggiante, con oltre 101 milioni di metri cubi, anche se nello stesso periodo del 2018, nell'invaso di Carlantino, c'erano 109 milioni di metri cubi di acqua. Nessun allarme, dicono dal Consorzio, la disponibilità idrica per il potabile è sufficiente, anche senza piogge, per almeno un anno. Diversa la situazione per l'irriguo, dove durante l'estate sono stati prelevati circa 100 milioni di metri cubi di acqua per le colture ortive, soprattutto per il pomodoro, pressoché invariati i livelli negli altri invasi.